Allora, Zucchetti Paolo. Siamo a Bolzone. Sono venuto qui per vedere l'acqua, se c'era intoppato la griglia e mi sono trovato dentro un uomo. Ma tu hai sentito delle lamentele o qualcosa? No, ho aperto la griglia per controllare se c'era pulito il fosso. Mi sono trovato dentro un uomo. Di che età circa? 50 anni e fortunatamente Svivo. Era il freddolito? Sì, si, tremava. Dopo è riuscito a parlare, a dire qualcosa. Dopo ho chiuso la chiusa e ho chiamato i scorsi. Per cui l'hai tolto? L'hai tolto sicuramente? No, l'ho lasciato dentro. Prima ho chiamato l'ambulanza, mi hanno detto di lasciarlo dentro, di non toccarlo. E quello che sono arrivati loro, hanno tirato fuori loro. Ok. Perché io non me la sono sentita di muovere. E' preferito aspettare i soccorsi. Sì, sì. Per cui grazie a te lui è ancora vivo. Esatto. Grazie. Grazie, ciao. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. Ma la questa è legata questa? Il passore. Non so, è un buon lavoro. E lui fa uno con me. Non so, non siamo più. Ma la questa è una mano fa o no. Non so... Ma la questa è legata questa...